Radio Radicale, siamo con Stefano Quintarelli per fare un po' il punto della settimana informatica. Lo facciamo occupandoci innanzitutto del presunto scandalo, su questo ci sono tante versioni, sul dossieraggio. Allora, volevo chiederti se sei rimasto sorpreso di questa vicenda che nasce da degli accessi informatici abusivi attraverso la Guardia di Finanza. In mezzo ci sono tanti enti, organismi, la Direzione Nazionale Antimafia, Banca Italia. Allora, dobbiamo essere preoccupati da questo dossieraggio di massa che la Commissione Antimafia, purtroppo non il COPASIR, per ovvi motivi, hanno messo in evidenza. Come la pensi e quanto sei preoccupato? Intanto un saluto a tutti. Sono preoccupato del fatto che sia avvenuto. Poi le notizie stampa non sono sufficienti per trarre un'opinione estremamente informata sui problemi che ci possono essere stati, almeno non ancora. Diciamo che la mia prima reazione, quando ho letto di questa cosa, è stata ma come? Non c'è una traccia dell'autorizzazione e non c'è un limite oltre il quale non ci si può spingere. Io nella mia ingenuità pensavo che quando uno accede, è naturale che gli inquirenti possano accedere alle banche dati e incrociare i dati, è il loro mestiere. Nella mia ingenuità pensavo che dietro a ognuno di questi accessi ci fosse un codice di autorizzazione che dice che questa operazione è stata autorizzata da, con tutta la catena di provvedimenti gerarchici, nella catena gerarchica dei provvedimenti, in modo tale da poter sapere cosa è successo. Questa nella mia ingenuità pensavo, e nella sempre nella mia ingenuità pensavo che ci dovesse essere un limite rispetto alla quantità di accessi che vengono fatti da una singola persona relativamente a una specifica autorizzazione. Apparentemente da quanto si capisce, però non è che si capisca tantissimo ancora, questo tipo di cose non c'erano. Allora, preoccupato, io mi ricordo che molto tempo addietro forse ricorderai lo scandalo che ci fu con la security di Telecom, il famoso Tiger Team, che riempì i giornali per mesi con l'amministratore delegato dell'epoca, che era Marco Tronchetti Provera, che fece una conferenza stampa in un grande albergo milanese con i suoi figli per dire, insomma, queste sono cose, io sono partelesa, sono cose che andavano al di là di malviventi all'interno dell'azienda. E tutto ebbe inizio, si dice, nel settore si diceva che tutto ebbe inizio, per una questione di corna, di un tabulato, dato che, non mi ricordo se lo sposo o la sposa, ma mi sembra la sposa, aveva ricevuto a Napoli poco prima del matrimonio, poco prima di sposarsi. E da lì era venuto fuori che, tirando quel filettino, lì era venuto fuori che c'era l'amministratore delegato della Coca-Cola, tutta la vicenda dello spionaggio in Team Brasil, eccetera, è venuto fuori una roba molto più grande di questa piccola cosa. Adesso è ancora presto per dire che cosa emergerà da questa vicenda. A me sorprende, ripeto, il fatto che non ci sia una catena autorizzativa netta su ogni operazione, che non ci sia una limitazione dell'accesso di questi dati. Poi che questi dati, i dati una volta che vengono letti, possono essere raccontati, no? E su questo ci si può fare poco. Se l'operatore che lo fa non rispetta i suoi compiti, i suoi impegni istituzionali e delinque, comunicando notizie private ad altri, se c'è tutta una catena di tutte le operazioni fatte, sarà facile punire i colpevoli. Ripeto, è ancora presto da capire l'entità e anche dal punto di vista tecnico che cosa non ha funzionato o cosa si potrebbe migliorare. Queste sono proprio prime impressioni. Però il numero delle persone coinvolte che hanno subito questa sorta di violenza informatica ti lascia pensare che questo giochetto sia stato fatto per un certo numero, per un lungo periodo senza che nessuno se ne sia accorto? Cioè lo dicevi tu, il codice autorizzativo, le cose, però qui per me si è andata avanti questa storia e tra l'altro lo scandalo è stato scoperto, lo ricordo, lo scorso agosto perché io me ne occupai per la prima volta la settimana prima della chiusura del Parlamento e poi è andata avanti per tutto questo periodo, cioè dal momento della scoperta della vicenda a scoprirlo, è stato il ministro della difesa perché se non so, se non se ne fosse accorto lui come sarebbero andate le cose? Non lo possiamo sapere. Sì c'era stato Crosetto che aveva fatto quell'uscita che non era neanche molto chiara, neanche lui, evidentemente aveva avuto delle informazioni, è andata avanti per tempo sicuramente, non mi sembra tantissimo, non mi sembra una roba che per fare tutti quegli accessi lì non è che ci vogliono anni, all'inizio avevo pensato, sarà una stupidaggine di qualcuno che andava a ficcare il naso nella banca dati della finanza sui personaggi d'attualità, da Fedez, andiamo a vedere quanto guadagna sto qua, quella sorta di curiosità malsana, però poi erano più banche dati coinvolte e poi c'erano stati rapporti con altri, insomma la cosa si è un po' allargata, vedremo cosa emergerà ancora presto per dirlo. Il tema è simile, non è la stessa cosa, ma dal punto di vista tecnico è analogo alle informazioni che escono delle intercettazioni, è complicato perché le intercettazioni possono uscire dall'avvocato difensore, dagli avvocati difensori, dagli operatori, ci sono tanti punti da dove possono uscire i dati, però la catena di custodia, la catena di accesso e il watermarking dei dati, cioè mettere un tracciatore all'interno dei dati per poter risalire alla fonte, poi non è che risolve tutto, perché una volta che uno legge racconta, però se il dato viene condiviso in modo identico come stato estratto si può risalire, quantomeno, insomma, bisognerebbe fare un po' più di attenzione alla gestione dei dati della cosa pubblica. Sono più preoccupato del fatto che possano essere scritti e sovrascritti rispetto al fatto che possano essere letti. Mi spiego, io mi immaginavo che ci dovesse essere un codice autorizzativo e un rate limit per queste cose, in lettura. La cosa che mi ha fatto pensare subito dopo è stato ma in scrittura quanto sono protetti quei dati, cioè non è che c'è qualcuno, qualche malintenzionato che riesce poi ad andare a scrivere il dato senza che ne rimanga tracciato da nessuna parte, se non c'è un tracciamento della lettura, non è che non c'è neanche un tracciamento della scrittura, il tracciamento della scrittura è molto più preoccupante, cioè la mancanza di tracciamento della scrittura, se c'è, se è così, sarebbe molto più preoccupante, perché vuol dire che io, operatore, posso andare a inserire nelle banche dati informazioni farlocche su Palazzolo e poi vai a scoprire che erano farlocche, il tracciamento, cioè nel momento in cui c'era la carta, dirò qualcosa che sembra paradossale sentito da me forse, nel momento in cui c'era la carta, carta canta, c'è una cosa, tu guardi, c'è il timbro, nel momento in cui il dato è un bit in una banca dati, e che ne so io che quella banca dati sia integra e cosa, cioè quali sono le garanzie per poter sapere che la banca dati è integra, questo mi preoccupa molto di più, mi preoccuperebbe molto di più, come faccio a sapere solamente perché il database administrator sono persone prove e oneste e non vanno a infilarsi nei dati, è complicato, è da scrittura di preoccupare. Come interpreti che una parte del mondo politico non si è scandalizzata, che poi tra l'altro sono tutti personaggi politici che per molto meno si scandalizzano per delle stupidaggini incredibili, ma siccome, insomma, non so se riesci a spiegarti un po' il diverso atteggiamento di una parte e dall'altra, non così, se... Perché dipende da chi è stato toccato da queste cose, se uno fosse stato toccato si scandalizzerebbe molto di più. Ecco, io volevo chiederti come hai trovato l'atteggiamento di Conte, che ha scoperto che aveva, c'era qualcuno che si occupava di lui, un dossier per lui e per la compagna, e però, insomma, non è che ha fatto fuoco e fiamme. No, non è vero, ne l'avevo perso, non l'ho seguito. Va bene, va bene, ok, ok, va bene, è una cosa che a me mi ha incuriosito, ecco. Allora, cambiamo argomento e occupiamoci dei piani alti della Casa Bianca. Allora, Biden è preoccupato per TikTok, ha detto se il congresso me lo permetterà, io lo metterò al bando. In realtà, dietro questo bando c'è un ultimatum, c'è una proposta di legge bipartisan, quindi di tutti e due gli schieramenti, che chiedono la vendita di TikTok, perché un'azienda controllata dal governo cinese controlla questo social network e questo per gli Stati Uniti non va bene, perché rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, un po' come le auto cinesi che vanno in giro, per le quali si sta pensando di metterle al bando. Come finirà? Ah, perché poi noi questo problema non ce lo poniamo? Come no? Come no ce lo poniamo? Ah, ci stiamo ponendo, non lo sapevo. Sì, 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 non nei confronti dei cinesi, ce lo poniamo nei confronti dei non europei in generale. Cioè, noi abbiamo il GDPR che dice che chi fa il trattamento di dati personali e non può essere sottoposto, di fatto, questa è l'essenza del regolamento della privacy, a un sistema legislativo che dia per i cittadini meno regole, meno garanzie di quelle che ci sono in Europa. Quindi questa è la ragione per cui l'Europa fa dei trattati con gli Stati Uniti, poi c'è questo signore austriaco Maximilian Schrems che fa causa, va alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia dice sì, effettivamente i dati dei cittadini europei non possono essere portati negli Stati Uniti perché là ci sono meno garanzie nei confronti dei cittadini di quelle che ci sono in Europa. Allora viene invalidato, allora la Commissione europea fa un nuovo trattato col governo americano, questo nuovo trattato viene impugnato da Schrems, la Corte di Giustizia dà ragione a Schrems, però il tema del fatto che i dati personali dei cittadini europei escano dall'Europa e finiscano in posti dove non si sa bene chi legge, chi cosa ne fa, chi dossier, eccetera, questo ce lo poniamo. Se lo pongono agli Stati Uniti, dicevamo la volta scorsa, dal mio punto di vista giustamente nei confronti delle auto cinesi, non è solo una questione a prima vista, dice uno, ah sì, lo fa per proteggere la General Motors, no, lo fa perché quelle macchine lì c'erano a bordo delle telecamere e possono registrare tutto dovunque, anche microfoni, conversazioni fatte dentro, al telefono, viva voce, eccetera, cioè c'è un tema, il tema c'è totalmente, noi ce lo poniamo in una forma un po' diversa, però ricordo ad esempio che qualche anno fa sostanzialmente abbiamo detto stop ai router della Huawei, non sulle reti europee, poi abbiamo detto stop agli antivirus di Kaspersky, quindi in realtà il tema ce lo poniamo, come finirà? Io credo che quello sta accadendo è che, l'abbiamo scritto anche un po' nel libro Internet fatta a pezzi che abbiamo scritto con Bertola un po' di tempo fa, quello che sta accadendo a livello geopolitico sta frammentando la rete e le applicazioni e si stanno dividendo i blocchi, chi pensava che la storia fosse finita sbagliava di grosso, noi dobbiamo decidere con chi stiamo e da chi ci va bene di farci spiare e poi tutti spiano tutti, per cui certo TikTok ha reagito negli Stati Uniti arruolando un sacco di utenti che chiamassero i loro politici di riferimento, la Casa Bianca, eccetera, dicendo di non chiudere TikTok, però il problema c'è tutto e non mi sorprenderebbe proprio per nulla se TikTok venisse chiuso negli Stati Uniti, venisse viettato, a cascata poi succederà anche in Europa, dovremmo trovare un'alternativa locale, oppure l'alternativa è che TikTok non sia più un'azienda cinese e che diventi un'azienda occidentale sottoposta al controllo delle autorità occidentali, cosa che vedo poco probabile, però è così, insomma, degli errori all'interno del software della Huawei nei router furono trovati e consentivano questi tra virgolette errori a un terzo di poter accedere al traffico in transito, furono rimandati indietro, Huawei li corresse l'errore, furono fatte le verifiche, tra l'altro Telecom Italia e Vodafone lavoravano insieme sulle verifiche di questo, mi risulta, e trovarono che tutte le backdoor erano state chiuse e poi nei router che sono arrivati c'erano di nuovo le backdoor, e c'è, no, no, ci siamo sbagliati, abbiamo sbagliato release software, probabile, sicuro, perché essere malpensanti, però il tema c'è tutto, il tema c'è tutto. Allora, io mi occuperei di una sorta di telenovela che ha riguardato OpenAI, ovvero quello del ritorno di Sam Altman nel CDA di OpenAI. Volevo chiederti, insomma, come hai trovato questa vicenda? Diciamo, visto che in OpenAI sono arrivati altri tre nuovi membri, allora, secondo te Altman non doveva essere licenziato, non doveva essere licenziato, come hai trovato la marcia indietro che ha fatto OpenAI? Allora, OpenAI è nata come organizzazione non profit, ha ragione Musk da questo punto di vista, mi capita di rado di dare ragione a Musk, però stavolta c'ha ragione Musk. OpenAI è nata come una non profit, ha preso un sacco di finanziamenti perché aveva un fine che era essenzialmente sociale, avanzare la conoscenza eccetera, poi si sono trovati in un momento in cui avevano bisogno di tanta capacità di calcolo e non gli bastavano i soldi, per cui hanno fatto l'accordo con Microsoft e una volta fatto l'accordo con Microsoft hanno dovuto cominciare a fare attività for profit, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione si sono opposti, sostenendo che era uno snaturamento della missione originaria e hanno licenziato Altman, molti dipendenti si sono rivoltati, Altman ha dovuto tornare indietro e adesso è rientrato nel Consiglio di Amministrazione e la fronda che gli aveva fatto un po' la forca ha perso. Questa è la vicenda. La vicenda è di una roba che nasce totalmente idealista e che lungo la strada invece diventa un'azienda come tutte le altre. Che vuoi che ti dica? Secondo me stiamo dando troppa enfasi, per carità, OpenAI sono molto avanti, ha fatto delle cose fantastiche, bellissime, eccetera, però secondo me non sono quelle le cose che fanno fare il salto all'economia, alla produttività, eccetera. Secondo me è quello che io lo chiamo l'intelligenza artificiale è noiosa. Noiosa perché non è quella che ti fa finire sui giornali, ai telegiornali, dove dici cavoli abbiamo, che ne so, Biden che fa le telefonate a un milione di persone e non era Biden. Queste sono cose molto immaginifiche, però poi la verità e la concretezza delle cose è una roba diversa, cioè quello che serve per scoprire nuovi farmaci, per selezionare meglio i pomodori, per tutte le applicazioni, risparmiare energia, fare nuove batterie, cioè tutte le applicazioni reali, ottimizzare i processi, capire dove stiamo avendo degli errori in azienda, cioè quella roba lì, che è la parte vera, la parte noiosa, è molto più rilevante dal mio punto di vista di quello che fa OpenAI. Io credo, ragionando sul tema dei large language models e la loro evoluzione, non è l'unica cosa, però riflettevo sul fatto che secondo me sono il nuovo paradigma di interfaccia utente. Noi siamo passati attraverso diversi stadi di paradigmi di interfaccia utente, no? Il point and click del mouse, che ha cambiato la storia dell'informatica, il what you see is what you get, per cui hai i font e vedi come viene una pagina prima di stamparla, in teoria. E allo stesso modo, credo che il large language model, una parte importante del valore del large language model sarà essere una nuova interfaccia utente. Tu pensa a Photoshop, no? Per dire, Photoshop hai tutti gli strumenti per togliere la persona che stava camminando dietro nella foto del tramonto al mare. Ci sono, il problema è che non li sappiamo usare. E allora tu gli dici, toglimi la persona che sta camminando dietro nella foto del tramonto al mare, ed è il sistema che capisce quello che vuoi fare e lo applica usando gli strumenti a disposizione. Quindi è uno strato di interfaccia utente in più. Da questo punto di vista, credo che alla fine il grande vincitore potrebbe essere Apple, che controlla molto strettamente la propria interfaccia utente. Credo che stiamo dando troppa enfasi a OpenAI, ci sono evoluzioni enormi dovunque, in tutto il mondo. Per esempio, io uso un sistema ogni tanto che si chiama Perplexity, non credo che tu lo conosca, Perplexity.ai, ed è un LLM che quando gli chiedi una roba ti dà anche i link alle fonti delle cose che ti interessano. Ma ce ne sono veramente tanti. Leggevo su Hacker News un thread di uno che diceva come fare ad addestrare un large language model da 70 miliardi di parametri, nota bene, GPT-3 e mezzo, quello precedente a GPT-4, erano 135 miliardi di parametri. Stiamo parlando di una roba tipo la metà di GPT-3, come farlo col proprio computer a casa. C'è un altro articolo di recente che dice che tutta la complessità che usiamo la possiamo ridurre riportando i modelli a valori non con tante cifre decimali, ma solamente meno 1, 0 e 1. E questo riduce la quantità di calcoli in modo impressionante, perché sostanzialmente non devi più fare le moltiplicazioni per allenare i modelli e ti basta fare cambi di segno, inversioni di segno e somme. E questo vuol dire poter fare chip che consumano pochissima energia e che finiscono nei telefoni. Cioè ci sono una serie di innovazioni enormi e ci stiamo secondo me fossilizzando troppo su OpenAI. Io non credo, è stato rilevantissimo, ma non credo, insomma credo che alla fine l'impatto vero sull'economia sarà dall'intelligenza artificiale noiosa e sugli LLM invece verranno da tante altre ricerche che ci sono in giro i salti di paradigma e OpenAI sarà uno dei tanti, insomma deve pedalare parecchio per restare ad avere, certo oggi all'attenzione di tutti noi, anche per queste vicende, per la causa, masche, sulle prime pagine dei giornali e per carità dal punto di vista tecnologico ha fatto tantissimo, però credo che le cose che veramente daranno la svolta non sono quelle che stanno facendo loro, cioè solo in parte sono quelle che stanno facendo loro. Scusami, una risposta un po' tecnica però. No, 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 ma penso che le persone che ci ascoltano sono proprio addetti ai lavori, quindi va bene così, anzi meglio così. Allora io mi occuperei di X perché, lo so però, mi dispiace, però la notizia è un trionfo della giustizia, perché Agicom ha multato X per gioco d'azzardo e ha inflitto una multa che secondo, lo so che mi direi che è una briciola, un milione e trecentocinquanta milioni, immagino... E trecentocinquanta mila euro. Trecentocinquanta mila euro, scusami. Perché l'azienda di Musk, diciamo, ha violato appunto il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo e non ha controllato nove account che facevano questo tipo di pubblicità. Allora, nulla di nuovo? No, nulla di nuovo. È sempre legato al fatto che loro hanno smantellato i loro team di controlli, che l'assolutista del free speech ammette anche reati sulle loro piattaforme. Nulla di nuovo. Francamente mi era anche sfuggita la notizia. Un milione e trecentocinquanta mila euro è una roba assolutamente trascurabile. Però per un'azienda che perde quattrini anche un milione e trecentocinquanta fa, perché Twitter sta perdendo quattrini. Poi c'è questo fatto simpatico che tutto il resto del mondo continua a chiamarlo Twitter. Sì, ma è difficile, perché io per esempio quando lo cerco non faccio X, faccio Twitter e mi esce fuori X. Però è una cosa un po' come succedeva ai tempi della conversione tra euro e lire. Quando c'è l'abitudine, poi si arriva a questo. Quando c'è l'abitudine, quando ci sono tantissimi utenti legati all'utilizzo di una piattaforma, è molto difficile cambiare strada. Estremamente difficile. Se poi sono dai due lati, sia i clienti che i fornitori, gli utenti e i fornitori, è estremamente difficile cambiare strada. Se tu hai, dico io, 40 milioni di utenti in Italia su un servizio, pensare di cambiarlo ci vuole tantissimo tempo e un grosso investimento. Certo. Allora, c'è una vicenda che riguarda Spotify in Francia. Allora, Spotify ha aumentato i prezzi in Francia perché è stata introdotta una nuova tassa del governo francese a fine dicembre per finanziare il centro nazionale della musica. Però la cosa che ha lasciato un po' perplessi è che nessun altro concorrente di Spotify ha annunciato un aumento di prezzi. Il Centro Nazionale Musicale è un'istituzione pubblica che commissiona studi sull'industria musicale francese e fornisce aiuti finanziari alle etichette discografiche. Questo genere di sostegni avviene spesso in Francia. La tassa francese prevede un prelievo dei servizi di streaming musicali per un totale di circa 20 milioni di euro corrispondente all'1,2% delle entrate ottenute in Francia. Allora, si è comportata bene Spotify leggendo il comportamento dei diretti concorrenti? Sì o no? Che impressione hai? Penso che se fossi stato in loro io non avrei fatto l'aumento perché se io aumento i prezzi e non ho una perdita di utenti è un segnale che io sono un attore di una posizione dominante e questa sarebbe la conferma per cui altri challenger potrebbero usare questo argomento per fare una causa antitrust nei confronti Spotify. Cosa ti devo dire? Poi tutto il tema della musica online, adesso io sono vecchio mi ricordo Napster e cose di questo genere e alla fine gli utenti vogliono bere la birra e non pagarla vogliono ascoltare la musica e non pagare per cui c'è questo programma, c'è questa possibilità con Spotify di sovvenzionato con la musica e con la pubblicità eccetera però alla fine stiamo parlando veramente di pochissimi quattrini ma pochi e gli interpreti non così famosi, non di grande successo che hanno poco potere contrattuale nei confronti della piattaforma di fatto non guadagnano niente cioè il fatto che la musica sia diventata liquida ha dato inizialmente una grossa botta all'etichette perché è la pirateria eccetera poi sono arrivati i servizi di streaming gratuito da YouTube Music a Spotify eccetera queste aziende non è che facciano una grandissima fortuna le etichette hanno reintegrato molto bene i ricavi che avevano perso credo che alla fine quelli che ci hanno rimesso di più siano gli artisti minori purtroppo questo è così sarà interessante se aumentano i prezzi e non perdono utenti potrebbe essere un'idea dire vabbè aumentiamo i prezzi aumentiamo la quantità di quattrini data agli artisti minori penso che non succederà allora il garante della privacy nel nostro paese è ancora in pressing su OpenAI per i video di Sora allora di che cosa si tratta e soprattutto che cosa c'è che non va nel modello di intelligenza artificiale che crea filmati a partire dalle istruzioni di testo allora questo è un nuovo problema che l'autorità pone sugli sviluppatori di chat GPT di nuovo secondo me stiamo parlando un po' troppo di OpenAI la volta scorsa ti avevo detto che aveva fatto bene una volta scorsa ti avevo detto che aveva fatto bene dal mio punto di vista l'autorità garante della protezione dei dati in Italia a richiamare all'ordine OpenAI perché era certamente non conforme e a seguito di quel richiamo nel giro di pochissimo si sono messi in regola tra l'altro il garante non gli aveva detto che dovevano chiudere gli avevano detto che non doveva trattare i dati dei cittadini italiani in assenza di donne garantige è stata l'azienda a decidere di chiudere e poi a dire a tutto il mondo che il garante italiano aveva chiuso il garante italiano non aveva chiuso in questo caso con Sora non so non so se ci sia in quel caso lì era sicuramente corretto era una cosa minore tutto sommato tant'è che l'hanno sistemato in poco tempo in questo caso non lo so certo anche il garante in qualche modo sta prestando moltissima attenzione a OpenAI nel mondo stanno succedendo anche un sacco di altre cose magari anche più rilevanti, più incisive c'è poi sempre il tema del fatto che la sede legale il foro competente per queste cose tende ad essere l'Irlanda perché queste aziende hanno la sede la sede in Irlanda per cui alla fine nel caso precedente OpenAI non aveva una sede in Irlanda adesso invece ce l'ha quindi non so non credo mentre nel caso precedente ti dicevo secondo me aveva ragione questa volta credo che questa azione non porterà molto lontano insomma non produrrà gli effetti secondo me non produrrà gli effetti che ci sono stati nel caso precedente allora sta per arrivare la primavera anche se dal tempo di questi giorni non sembra però il 21 marzo Reddit dovrebbe fare il suo ingresso in borsa la piattaforma social diciamo sta per fare il suo lancio di un'offerta pubblica iniziale alla borsa di New York per un valore potenziale di 6 miliardi e mezzo di dollari prevedi? primo commento sono molto coraggiosi ad andare in borsa adesso cioè è vero che c'è quest'aria del fatto che i tassi di interesse si abbassino inflazione alta tassi di interesse alti tassi di interesse alti la gente compra bot per dire compra buoni del tesoro piuttosto che comprare azioni in borsa quando i rendimenti dei titoli dei bot dei bond si abbassano i soldi vengono spostati sulla borsa e quindi c'è più liquidità e le quotazioni tendono a salire questo è un po' il meccanismo in questo momento i tassi sono ancora alti e sono ancora e certo c'è quest'idea che i tassi si abbassino devo dire che sono molto coraggiose ad andare in borsa adesso probabilmente se aspettassero dopo che i tassi si sono abbassati in modo importante potrebbero ottenere un risultato risultato maggiore vedremo cioè se lo fanno sicuramente hanno i loro bravi consulenti analisti eccetera c'è un'altra notizia invece che riguardava mi sembra Reddit in questi giorni che era il fatto che in qualche modo stanno facendo dei contratti con gli addestratori dei grandi modelli linguistici dando vendendo tutte le conversazioni che sono state fatte su Reddit tutti i testi per addestrare i modelli ed è interessante perché non è il primo caso non è l'unico però è un è un passo nella direzione per cui le aziende devono pagare dei quattrini ai titolari dei diritti per usare i testi di questi altri di questi terzi questa cosa è in astratto corretta e io sono d'accordo che sia così però non può essere solo così perché altrimenti quelli che hanno addestrato i grandi modelli fino ad oggi andando in cavalleria cioè usando testi senza pagare diritti hanno una posizione di vantaggio sui newcomer che invece adesso devono devono pagare diritti e questo è uno squilibrio a vantaggio di chi c'è già quindi dal mio punto di vista bisognerebbe resettare la cosa e dire ok si riparte adesso tutti i testi che usi devi pagare i diritti di tutti per riportare in una condizione di parità non credo che questo accadrà penso che alcuni dei grandi modelli che sono stati addestrati sinora finiranno in buona parte finiranno in cavalleria e non pagheranno diritti a chi ha prodotto a chi ha i diritti su quei testi e questo sarà uno svantaggio per i newcomer purtroppo è un principio giusto ma temo che l'applicazione potrà generare tante cause ricorsi eccetera e di fatto non produrre un risultato certo che in qualche momento bisognava tracciare una riga perché non era pensabile che questi signori diventassero l'unica interfaccia utente rispetto a tutti i contenuti prodotti da tutta l'umanità a gratis sottraendo traffico lettori eccetera questi contenuti che loro ingeriscono quindi in qualche momento bisognava tracciare una linea temo che questo possa consolidare appunto alcune grandi aziende posizioni di vantaggio di alcune grandi aziende non è una novità è spesso successo bisognerà poi andare a fare delle ispezioni e chiedere che paghino a tutti allora gli ultimi due minuti io cerco di utilizzarli per questa cosa qui si sta svolgendo l'assemblea del popolo in Cina e il modello di Xi Jinping è quello delle nuove forze produttive in pratica la Cina vuole la sua autosufficienza tecnologica ci riusciranno ma sicuramente sì ma questo richiama un po' quello che ci dicevamo all'inizio quello che abbiamo descritto in internet fatta a pezzi cioè in tutti noi siamo nati con il sogno di internet l'ambiente globale fuori dalle leggi con un proprio codice eccetera non è così la storia non è finita ci sono divisioni geopolitiche e tutti cercano una sovranità digitale all'interno della propria area di riferimento e ci riusciranno certo che ci riescono assolutamente ci riusciranno non avrei grossi dubbi su questo magari non avranno su alcuni temi le cose con più lustrini e più più sofisticate eccetera però anche se non arrivano al 110% di quello che fa l'Occidente ma arrivano al 98 sono talmente tanti che va bene lo stesso va bene io ti ringrazio grazie per la tua disponibilità e soprattutto per aver accettato di fare una puntata senza che io ti mandassi la scaletta delle cose abbiamo totalmente improvvisato per motivi diciamo contingenti se ci sono degli errori se ci sono degli errori e ci saranno sicuramente visto che non c'era la scaletta è tutta colpa mia no no è anche colpa mia che non te l'ho mandata 50 50 50 grazie a Stefano Quintarelli un saluto a tutti